Nel portale europeo tra i paesi di eccellenza in materia di progetti sull'ambiente figura il comune di Campofranco. Ne dà notizia il primo cittadino che in un posto online afferma che questo riconoscimento dà lustro al paese. Infatti tra i progetti eseguiti dalla vecchia e dalla nuova amministrazione figurano la riduzione di emissione di anidride carbonica, il risparmio energetico, l'illuminazione pubblica, l'eliminazione dell'amianto, gli impianti fotovoltaici, la bonifica dell'ex discarica, l'ampliamento della zona ecologica e la raccolta differenziata. Le tematiche dell'ambiente, afferma il sindaco, sono una delle priorità di questa amministrazione e l'adesione al nuovo patto dei sindaci 2030 ne è un'ulteriore prova. Un grazie per il lavoro sin cui svolto a Salvatore Di Giuseppe, responsabile dell'area ambientale del comune e ai suoi collaboratori con i quali condividiamo il sempre maggiore ricorso alle energie sostenibili e affrontiamo le problematiche del settore. Su questa strada continueremo, conclude il sindaco, per una Campofranco ancora più pulita e vivibile.